I ragazzi e le ragazze della Quinta Elementare della parrocchia di San Rufino si sono finalmente incontrati virtualmente con il proprio gruppo di catechismo attraverso la piattaforma Zoom. Un incontro semplice basato sul piacere di rivedersi in tempo di pandemia e animato dallo spirito della settimana Laudato Si appena conclusa.